Basta spargimenti di sangue. È l'appello di Rachel Frankel, la madre di uno dei tre ragazzi israeliani rapiti e uccisi a Debro nel 12 giugno. Un invito alla pacificazione che arriva dopo l'arresto e la confessione dei responsabili dell'omicidio di Mohamed Aboukadir. Gli assassini dei nostri figli, chiunque li abbia mandati, chiunque li abbia aiutati, saranno tutti portati davanti alla giustizia. Vogliamo i veri responsabili, non altri. Nessuna madre, nessun padre dovrebbe passare quello che stiamo passando noi. E il nostro dolore è lo stesso dei genitori di Mohamed Aboukadir. Rachel ha chiamato la madre del ragazzino palestinese bruciato vivo. L'adolescente è stato vittima di una vendetta da parte di ultra nazionalisti ebrei. Le sue persone arrestate, alcuni hanno già confessato, provengono dalla colonia ebraica di Adam. Da Gerusalemme Est, dove si è recato in visita alla famiglia, il leader dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, chiede all'ONU di indagare sui crimini e le violazioni contro il popolo palestinese. Sul terreno proseguono i raid da una parte e i lanci di razzi dall'altra. La scorsa notte sono rimasti uccisi complessivamente nove miliziani palestinesi. Hamas accusa Israele di aver innescato la spirale di violenza e avverte, la resistenza è pronta a tutto.